la bandiera con la sbastica vai a fare un giro ma vergognate vai a fare un giro e guardate ma come la bandiera con la sbastica cos'è una vera sta distrattito con la bandiera con le sbastiche ma mi rendete conto io mi rendo conto io mi rendo conti ma io mi rendo conti 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 è un gioco il nazismo è un gioco il nazismo è un gioco questa è l'età è l'apologia del fascismo non è perchè è una festa che si ponde in più e non c'è un fascismo e quanti anni hai quanti anni hai non mi va bene questo non dovrebbe essere presente sono il patrocinio del comune per le bandiere naziste non si deve un colpo